Ben tornato Guter, ben tornata Cominciamo a vedere Windows 8.1 dopo averlo installato oppure aver aggiornato il sistema operativo a 8.1 da una precedente versione Vediamo l'utilizzo, prima però ti devo fare una premessa Le informazioni che tratterò da qui in avanti saranno relative alla versione Windows 8.1 Update Tale corposo aggiornamento è stato rilasciato lo scorso anno nel 2014 e, ricordo, equivale ai service pack delle precedenti versioni della Microsoft Prima di addentrarci nella descrizione di Windows 8.1 è necessario verificare se il tuo sistema operativo è aggiornato appunto a questa versione Il nome dell'update è KB2919355 Se il tuo sistema operativo è impostato per l'installazione automatica degli aggiornamenti, è possibile che questo aggiornamento, questo update, già sia installato Tuttavia, in questo caso, è meglio verificare se è presente nella lista degli aggiornamenti installati nel sistema operativo nella sezione Windows Update del pannello di controllo Il pannello di controllo lo raggiungi cliccando col tasto destro del mouse sul pulsante Start in basso a sinistra, quello con il logo della Microsoft Dopodiché potrai accedere alla sezione degli aggiornamenti installati e visionare se è presente il KB2919355 Nel caso non lo trovassi nella lista, esegui un controllo sulla disponibilità degli aggiornamenti quindi controllando gli aggiornamenti disponibili, sempre in Windows Update Verosimilmente, il sistema troverà questo aggiornamento e quindi potrà installarlo In caso contrario, potrebbe mancarti un prerequisito necessario per accedere a tal aggiornamento sia un altro aggiornamento, in questo caso chiamato KB2919442 Lo trovi a questo link, link che riporterò nella descrizione di questo video Scaricalo, installalo e riavvia il PC Dal nuovo controllo, in Windows Update, dovresti trovare disponibile appunto l'aggiornamento in questione Quest'ultimo, infine, è anche possibile scaricarlo ed installarlo manualmente Come? È un pacchetto cumulativo, corposo, di vari aggiornamenti e alla pagina di questo link ne troverai una descrizione Prendi una visione e dopo puoi scaricare i pacchetti in base all'architettura del tuo sistema operativo 32 bit o 64 bit, link anche in questo caso, che riporterò nella descrizione di questo video tutorial La durata del download è variabile, in base alla tua banda e risorse naturalmente Al termine del download, per l'installazione degli aggiornamenti, dovrai rispettare l'ordine descritto nella pagina che avrai letto Qui riportata la lista del pacchetto degli aggiornamenti da eseguire e l'ordine con il quale dovrai eseguire tale aggiornamento Terminate tutte le installazioni, potrai a questo punto riavviare il sistema operativo C'è un altro aggiornamento di cui parlare È il KB 29 75 719 Che potrai visionare a questo link Questo aggiornamento è stato sempre rilasciato nel 2014 E sembrava destinato ad essere l'update numero 2 Invece è stato relegato ad aggiornamento facoltativo Nel ricercare gli aggiornamenti disponibili nel tuo sistema operativo E' lì che troverai questo aggiornamento per poterlo installare intenzionalmente Quindi, dato che è facoltativo L'alternativa è visionare la pagina Microsoft Dedicata a scegliere il download in base all'architettura e quindi farlo manualmente Per praticità, eccoti anche in questo caso i link per l'architettura a 32 bit e a 64 bit Al termine del download, anche qui, installa gli aggiornamenti rispettando l'ordine Prima di installare questo upgrade, naturalmente dovrai per forza di cose aver installato il precedente update Ma questo non basta, ahimè Infatti, tra i requisiti necessari per quest'ultimo aggiornamento Vi è un altro aggiornamento chiamato KB 2993651 Ecco in questo caso anche il link per il download Dopo quest'ultima fatica, sarai sincronizzata E quindi sarei pronto, sarei pronta a seguire le informazioni su Windows 8.1 Update Allora Goodler, come prima cosa andiamo a vedere dal pannello di controllo Se l'aggiornamento è installato Windows Update In basso a sinistra trovi aggiornamenti installati Cliccaci sopra E dalla lista che si presenta degli aggiornamenti Andiamo a cercare quello che ci interessa Appunto il KB 2919355 Che in questo caso specifico è già installato Andiamo a vedere cosa fare nel caso non lo presentassi installato nel computer Collegandoti a questa pagina potrai visionare l'installazione di Windows 8.1 Update Dagli una letta prima di procedere all'installazione vera e propria Successivamente da questa nuova pagina potrai scaricare l'aggiornamento Selezione italiano, qualora non fosse già selezionato E potrai anche visionare i dettagli che riguardano questo aggiornamento con i file che andrai a installare I requisiti necessari ed eventuali altre istruzioni per l'installazione Questo è l'ordine di installazione e qui un prerequisito prima di installare questo aggiornamento A questo punto procediamo per il download Tornando su andiamo a cliccare sul pulsante scarica E potremo visionare la lista completa dei file che andremo a scaricare di questo update Selezioniamoli tutti e sulla destra troviamo il numero di download e la dimensione totale del download Clicca su avanti ed iniziamo così a scaricare tutti i file di installazione ad uno ad uno Selezioniamo dove scaricare il singolo file e procediamo in sequenza al download di tutti i file elencati precedentemente Il tempo naturalmente sarà variabile in base alle tue risorse e alla banda di internet Terminati tutti i download troveremo in questo caso sul desktop tutti i file già scaricati A questo punto andandoti a rivedere la sequenza cronologica delle installazioni da seguire Potrai portare a termine l'aggiornamento del sistema operativo Non ti resta quindi a questo punto che avviare uno ad uno l'installazione dei vari programmi Per completezza andiamo a vedere come installare eventualmente il prerequisito prima dell'installazione di Windows Update Il KB 2919442 A questa pagina potrai avviare il download come il caso precedente Salva come meglio credi il file prima di procedere all'installazione Terminato il download vai ad individuare il file dove lo hai scaricato e avvia l'installazione Ti mostro ora come eseguire il download e l'installazione di un altro aggiornamento Che tutto sommato anche se facoltativo può risultare utile Aggiornamento che dalle prime indiscrezioni sembrava essere destinato a trasformarsi in Windows Update numero 2 Ma alla fine è stato relegato, passami il termine, ad aggiornamento facoltativo In questa pagina potrai scorrere fino a trovare il download che può riguardare la tua architettura x86 o x64 Scegliamo ovviamente la lingua in italiano per questa versione a 32 bit Dopodiché possiamo procedere al download Prima puoi anche visionare i vari dettagli e i requisiti di installazione come fatto nel precedente update Dopodiché cliccando sul pulsante scarica potrai visionare la pagina dove eseguire il download dei singoli o di tutti i file compreso la dimensione totale Clicca su avanti per procedere al download di tutto il pacchetto cumulativo In sequenza salva i singoli file dove ritieni più opportuno Anche in questo caso al termine del download potrai visionare i file dove li hai scaricati e procedere con ordine cronologico all'installazione dei singoli Bene, dopo questa lezione particolarmente nozionistica e piena di numeri Nella prossima lezione comincerò quindi a descrivere Windows 8.1 Ora un forte saluto, ciao a presto da Gallo e dalla prossima